Allora io faccio un po' una sintesi molto concreta, vi racconto proprio in maniera diciamo quotidiana quello che facciamo noi tutti i giorni. La scuola dico noi e non io in maniera molto cosciente perché la scuola è una comunità, non la mia scuola, tutte le scuole, ma non la scuola in senso assoluto che è il grosso problema che sconta la scuola italiana. Sentivo prima, parlava Sabrina ma anche gli altri relatori quando si ha la sensazione della scuola che frequenta il proprio figlio si dà un valore positivo a quella scuola a quella maestra, a quel gruppo di insegnanti, a chi si impegna in quel momento. Quando invece si parla della scuola in generale, della sanità immaginiamoci, della politica in generale, il valore che si dà è sempre un valore molto negativo che deriva dal luogo comune, che deriva dal sentimento, che è quel sentimento condiviso che ci fa essere un po' tutti allenatori di calcio. Allora io sono partita proprio da lì, la mia scuola è una comunità enorme, ho 2200 studenti, 300 docenti, questo per darvi un'idea, mi trovo nel nord, le mie classi sono numerosissime, abbiamo 31 studenti, è una scuola di tipo tecnico, economico, quindi non è un liceo classico, eppure sono stata come dirigente scolastica e questa è una scuola di periferia, sono stata anche in centro a Milano e ho scelto di venire qui perché ci sono condizioni di lavoro completamente diverse. Si può lavorare su un materiale umano che sono gli studenti prima di tutto, perché noi non dobbiamo dimenticarci che la scuola esiste solo perché esistono i bambini, i ragazzi e i nostri studenti, ma che è un luogo di lavoro e di vita dove noi passiamo tutti quanti la maggior parte del nostro tempo, gli studenti da una parte, i docenti dall'altra, ma poi c'è tutto un numero di persone che girano intorno alla scuola, il personale scolastico, i bidelli, per esempio il personale APA che non nomina mai nessuno, ma che se non ci fosse la scuola non potrebbe sopravvivere, e il dirigente scolastico che ahimè è uno solo, io sarei per la divisione, il dirigente di SGA potrebbe essere un dirigente amministrativo, il dirigente scolastico potrebbe fare il coordinatore educativo, ma insomma in questo momento può anche andare bene così, purché la scuola sia una comunità. Allora cosa vuol dire fare comunità? Intanto riconoscere che il dirigente deve essere un leader educativo e la sua leadership deve essere condivisa, quando è un buon dirigente di lui non ci deve essere bisogno, deve creare intorno a sé un gruppo di persone a tutti i livelli che sappiano esattamente cosa fare, come muoversi in perfetta sintonia, perché non si arriva da solidà per tutte, non si può portare sulle proprie spalle il peso di una scuola così grande, così numerosa, che ha infiniti fronti aperti e un sacco di imprevisti, e il cui peggior nemico è sempre l'amministrazione, per tanti motivi, a volte burocratici, a volte politici, a volte semplicemente per il peso che questo porta, pensiamo al PNRR in questo momento. Allora noi abbiamo risolto così, abbiamo cercato di renderci conto che il valore aggiunto di una scuola è sempre l'insegnante, e l'insegnante nasce e cresce all'interno di una scuola, invecchia all'interno di una scuola, e chiaramente mentre l'insegnante invecchia succede per tutti, i giovani invece continuano a stare al passo con i tempi, e quindi resistere per esempio all'intelligenza artificiale, noi ci stiamo lavorando, non ha nessun valore, nessun senso, perché se noi resistiamo per le 6, 7, 8 ore di scuola in cui i nostri ragazzi sono lì, appena andranno a casa, usciranno da lì, loro saranno comunque esposti a un mondo che noi neanche ci immaginiamo. Oggi l'insegnante è un facilitatore di processi, perché il mondo ce l'abbiamo in tasca, e quindi dobbiamo fare completamente un'altra cosa, dobbiamo far capire ai nostri docenti che la loro bravura non è nel senso di trasmissione di un sapere che oramai non è più quello di una volta, ma è nella capacità di dare degli strumenti ai nostri ragazzi, di analisi, di sintesi, di risoluzione dei problemi, di lavori di gruppo, una capacità per esempio che sta nell'arte del dibattito, noi siamo per esempio scuola capofila sul debate, e mi fa molto sorridere, lo chiamiamo debate, quando quest'arte nasce in Italia, nasce a Roma, anzi ancora prima in Grecia, era nostra, poi abbiamo dovuto esportarla negli Stati Uniti e riportarla qui per renderci conto che questa è una metodologia efficacissima e che insegna ai ragazzi per esempio a leggere un testo, a valutarlo con senso critico, a confutare una tesi, a lavorare insieme per arrivare a una soluzione. Nessuno chiede ai nostri ingegneri per esempio di creare un ponte facendolo in due ore con tutti i conti perfetti, si chiede di sbagliare mille volte a fare quei conti e di fare però un lavoro che abbia effettivamente un valore di tipo sostenibile, ecologico, economico, a lunga durata nel tempo. Ecco, cosa facciamo allora perché gli insegnanti riescano in qualche modo a fare gruppo? Intanto non devono sentirsi soli, non può esistere più la scuola in cui chiudo la porta e sono da solo con i miei 31 alunni, perché questo è il vero problema del burnout, è il vero problema del dirigente scolastico, del docente, del personale ATA. Io mi ritrovo da solo con i miei problemi piccoli o grandi che siano, alla fine mi schiacciano, è come tenere un bicchier d'acqua in mano, se lo bevo non ha nessun peso, se lo tengo con la mano alzata per due ore alla fine il braccio mi pesa e mi fa male, vale la stessa regola. Quindi noi imbarchiamo, facciamo proprio un progetto di onboarding a tutti i nostri insegnanti, nuovi, vecchi, supplenti, all'inizio dell'anno scolastico. Iniziamo l'anno scolastico al mare, portiamo i nostri 400 nuovi studenti di prima che non conosciamo, tre giorni in una colonia, tutti insieme, con i docenti che vogliono venire in maniera assolutamente libera, dall'ultimo arrivato, nominato dalle graduatorie, al docente che invece è lì da tantissimi anni, addirittura a quelli che sono in pensione e che vogliono tornare perché vogliono fare questa esperienza. E ci conosciamo in un contesto alternativo, senza cellulare, per tre giorni tutti insieme, facendo delle cose molto semplici, per esempio mangiando insieme a tavola, facendo l'acqua dal self-service, sedendoci dove capita e cominciando a chiamarci per nome. Io credo che, come il docente debba conoscere i nomi dei suoi studenti e non soltanto perché li deve interrogare, ma perché deve sapere qual è la differenza che intercorre tra l'uno e l'altro, se sono felici quella mattina, se è successo qualche cosa, perché altrimenti chiaramente il senso di autoefficacia e di prestazione in quella mattina non ci sarà, lo stesso deve avvenire col dirigente scolastico e tutte le altre componenti. Questo è solo un inizio, poi facciamo dei momenti, per esempio abbiamo una volta al mese un momento di team building, una volta al mese con tutti i nuovi, i neoassunti, i supplenti e lo staff di dirigenza. Il mio staff è composto da 25 persone che si occupano a vari livelli di tutta una serie di coordinazioni, compresi alcuni del personale ATA. Andiamo a fare per esempio scalata, arrampicata, facciamo la pizza, chiamiamo la confraternita e la pizza, noi abbiamo una mensa e ci mettiamo lì tutti insieme a imparare a fare la pizza e poi la mangiamo tutti insieme. Con i ragazzi facciamo delle serate a tema, per cui per esempio facciamo il sabato sera, il venerdì, quando i ragazzi sono disponibili, nella nostra aula magna dei momenti di karaoke e di discoteca, non ci sono più luoghi di aggregazione, bisogna riempire la scuola di momenti felici. La scuola deve tornare a essere un luogo, non un non luogo di passaggio come una stazione, dove prendo il primo treno, vado via, possibilmente non uso il bagno perché è anche sporco. Ecco, nella scuola, nella mia scuola, tutti ci prendiamo cura dell'ambiente, quindi è una scuola colorata, è una scuola bella. Come abbiamo fatto a fare questo tipo di scuola? Abbiamo utilizzato tutti i fondi che stanno arrivando, che non sono solo una maledizione burocratica, sono anche una benedizione per certi versi, perché ci permettono di arredare in maniera più, diciamo, accogliente quello che è un luogo dove poi noi viviamo tutta la giornata. Pensate a un ragazzo nella sua cameretta, il docente ha la sua aula, i miei docenti hanno la loro aula dove stanno, i ragazzi si muovono e raggiungono l'aula del docente e lavorano per dipartimenti, quindi vuol dire che lavorano con classi aperte. Abbiamo abbattuto le pareti, questo è stato il Covid, ce l'ha insegnato il Covid, le abbiamo proprio abbattute, abbiamo fatto le porte apribili, scorrevoli, quindi mettiamo una prima e una prima, una terza e una terza, i due insegnanti di italiano aprono le porte e lavorano in compresenza. Questo aiuta tantissimo, si lavora in gruppo, si lavora sul recupero delle competenze, si lavora senza voto nella mia scuola. Abbiamo abolito il voto già prima del Covid e purtroppo dobbiamo rimetterlo a giugno perché è un obbligo di Stato, però questo crea meno stress ai nostri studenti e assolutamente meno stress ai nostri docenti perché non carichiamo gli studenti di verifiche nell'ultima settimana della fine del trimestre di tutte le dieci materie, undici materie che devono preparare e che li mette ovviamente nelle condizioni di fare un pezzo di storia che devono parlare per vedere nel mondo e pensare che cos'è la lingua. Quindi i nostri ragazzi insieme ai nostri docenti partecipano. Noi siamo molto attivi sulle carte delle mobilità, la mobilità non solo per studenti ma per tutto il personale, quindi mandiamo in mobilità anche i docenti ma anche i bidelli a fare degli scambi, a fare dei momenti di dog shadowing non solo in Europa, in giro per il mondo. Per esempio a marzo, una delle ultime esperienze che abbiamo fatto, siamo stati a Montevideo, un gruppo di studenti, un gruppo di docenti, c'erano anche alcuni dei nostri bidelli e hanno scoperto con loro orrore che in altre scuole non esistono i bidelli e che i ragazzi fanno una serie di altre cose. Quindi abbiamo riportato a casa, ad esempio, questo modello. Perché non pulire la nostra aula alla fine della giornata? In fondo a casa magari rifacciamo anche il letto. Ecco, il modello che stiamo utilizzando noi è un po' questo, quello di renderci conto che la comunità educante non è solo una bella parola, bellissima, messa in un contratto collettivo nazionale. Se le parole rimangono solo parole e se, e io sono d'accordo con tutte le critiche che ho sentito, ne farrei ancora di più, avrei una lista enorme. Ma se abbiamo scelto questo lavoro e gli insegnanti spesso lo scelgono questo lavoro, non sempre, ma tanti lo fanno con cognizioni di causa e lo fanno perché tutto sommato credono che sia uno dei lavori più belli del mondo, ecco, allora abbiamo sicuramente un dovere, che è un dovere civico. Non possiamo aspettare che il cambiamento inizi dall'alto, il cambiamento parte sempre dal basso e non possiamo aspettare che sia il vertice della piramide a dettare quelle che sono le regole che stanno alla base, perché questo lo viviamo anche noi tutti i giorni sulla nostra pelle. Non c'è una legge che ci passa sulla testa e che ci trova convinti. Dobbiamo creare un clima diverso, bisogna entrare a scuola con il sorriso, bisogna sapere che per esempio se c'è un consiglio di classe e devo stare a scuola fino a tardi o il bambino da portare a scuola lo posso portare, perché se sono una madre lavoratrice e ho un bambino piccolo o sto a casa e prendo un giorno di malattia o mi invento una scusa o il mio stress cresce se non so dove lasciare mio figlio, oppure mi organizzo. Noi ad esempio ci siamo organizzati con i nostri ex studenti, quelli che escono dal Tosi fanno una sorta di volontariato e il nostro comitato genitori li paga anche, vengono e fanno il baby club per i bambini dei nostri dipendenti. Un po' prima al mattino se l'asilo non è ancora aperto, la sera, il pomeriggio, quando ci sono una serie di attività, questo ha aumentato in maniera notevole le performance dei nostri docenti che vengono e stanno e fanno anche quelle riunioni che prima in qualche modo non facevano e ci chiedono di essere presenti e poi abbiamo una serie di altre iniziative. Io non vorrei portarvi via troppo tempo perché so che stiamo sforando una, insomma, rispetto all'orario che mi avevate dato, però ecco il cambiamento parte sempre dalle persone, da riconoscere che c'è un valore in quello che si fa, che la comunità nella quale si vive ha bisogno di ciascuna delle persone che è all'interno di un meccanismo, perché quando il meccanismo si inceppa c'è sempre qualcuno che viene lasciato indietro e se io mi sento solo e vengo lasciato indietro è a quel punto che non sono più, non sono utile, ma divento anche dannoso. Questo non significa che poi non ci siano delle resistenze chiaramente, però fermarsi, parlare con la gente, discutere, cercare di capire quali sono le problematiche che in qualche modo hanno un valore importante. A volte sembrano sciocchezze, altre volte sono fondamentali. Ad esempio noi abbiamo scoperto che tanti nostri studenti e tanti nostri docenti faticano ad arrivare a scuola alle 8. Questo è un sistema che esiste quasi solo da noi ed esiste così perché nelle aziende, nelle fabbriche si inizia a lavorare alle 8, ma pedagogicamente il tempo di un bambino non è alle 8 del mattino. E allora abbiamo comunque fatto la scuola su due turni, ce l'ha insegnato la pandemia. Ci sono gruppi di studenti che hanno scelto di entrare alle 9 e mezza e ci sono gruppi di docenti, spesso mamme, che riescono a portare tranquillamente a scuola o all'asile i propri figli, arrivare più rilassate, a fermarsi anche al pomeriggio perché comunque i figli escono più tardi. Ecco, vale una regola. Tutto quello che non è espressamente vietato dalla legge si può anche decidere che sia lecito. Non voglio rubarvi altro tempo.